Idee e scrittura dei video, si vedono molto spesso dei backstage riguardo alla parte di registrazione, di montaggio ma pochi riguardo alla parte di ideazione Come si arriva a essere davanti alla videocamera a registrare un video? Ve li faccio in questo video Ovviamente quello che vi racconta in questo video è quello che faccio io per i miei video Attualmente in questo momento e in futuro potrebbe cambiare, per altri youtuber sicuramente è diverso Quindi comunque può essere per voi curioso di scoprire come io ideo i miei video per un video Serve un'idea, se no cosa si parla del video? Di niente Ecco, prima avevo dei momenti in cui mi dedicavo alla ricerca delle idee Quindi guardavo dei video su YouTube, scorrevo da un YouTube, leggevo articoli, portavo blog Per cercare di far venire delle idee per un video Ma in realtà è un atteggiamento sbagliato perché per più si cerca una cosa, più questa Infatti spesso mi trovavo con idee non bellissime che non mi soddisfavano a pieno Ma che poi molto spesso mi arrivavo davanti alla videocamera e dire Che schifo questo video E quindi nell'ultimo periodo degli ultimi mesetti ho cambiato approccio E quindi ho detto, bene, io le idee non le cerco più, le faccio arrivare Infatti a me tutte le idee che ho nei vari video arrivano praticamente da sole Mentre faccio altro, non so, sto vedendo un video totalmente a caso perché lo voglio vedere Lampadina, idea per un video Sono andando a scuola, lampadina, idea per un video Insomma, la scena casualmente, se c'è un momento in cui non ho idee Semplicemente non faccio un video Non faccio come facevo un po' di tempo fa in cui mi sforzavo di trovare qualcosa di cui parlare Che poi al 99% dei casi non era qualcosa di cui ero soddisfatto Ovviamente poi una certa percentuale di idee arrivano anche dal pubblico Quindi quello che il pubblico vuole vedere è giusto alternare sia a quello che ci piace a noi E quello che vogliamo portare a noi Ma anche a quello che piace al nostro pubblico Infatti ho anche creato un forum di Airtable, una sorta di Google Moduli In cui voi potete consigliarmi delle idee per i miei video Vi lascio il link in descrizione Se vi vai a partecipare, se avete qualcosa che vorreste vedere sul canale Fatelo da quel link Ok, arrivano tutte le idee, ma come le organizzo? Beh, organizzo tutto attraverso Airtable Airtable è un po' un potentissimo foglio Excel dove qua segni tutte le idee Qua la piattaforma dove poi andranno queste idee Vedete, ossia contenuti per Telegram che per YouTube Alcune note, giusto che mi voglio magari segnare La valutazione è questa fondamentale Vado a dare delle stelline alle idee Come vedete, 4, 3, 2 Ho una stellina in base a quanto mi piacciono quelle idee Perché? Perché anche se mi metto un'idea Ma magari non mi soddisfa il top Dico, sì, ma beh, ma forse La scrivo Alcuni video, come quello che è uscito qualche settimana fa Sull'algoritmo di Spotify Erano lì da tantissimo tempo Forse anche più di un anno Non le avevo mai calcolate perché, no, non mi piaceva Così Un giorno, sì, quals'idea Mi piace e in effetti poi mi è piaciuta A me, mi è piaciuta anche a voi Quindi le tengo lì A volte fermentano le idee E poi durante il tempo migliorano E vabbè, infine qui ho la data in cui pubblicherò quel contenuto Può essere anche l'esempio un po' su Telegram Oppure un video su YouTube Tutto questo è gestito da delle automazioni Ovvero queste qui, che soprattutto la cosa più importante è che quando vado ad inserire la data Su Airtable Mi trovo questa anche nel mio Google Calendar Oggi è un LED 22 Evento tutto il giorno Ideazione video Per inserire le idee velocemente Premo sulla tastiera Control e lo slash Mi appare questo Input box Gli inserisco il nome dell'idea Ed ok In pochissimo tempo, qualche secondo Questa me la trovo su Airtable Senza dover fare niente Bene, e quindi una volta che da questo database Vado a trovare l'idea Per questo video generalmente mi programma i video per le due settimane successive Vado ad effettuare un'analisi dei dati per andare ad approfondire Ecco l'idea Fuso principalmente due servizi Google Trends e Answer the Public Questi servizi mi permettono di andare a vedere il tasto di ricerca In una certa parola In particolare Google Trends ci mostra l'andamento delle ricerche In una certa keyword o frase In un determinato atto di tempo Utili per capire se quell'argomento è di moda in quel periodo Ha avuto momenti migliori È in un momento in cui non viene molto cercato Quindi magari conviene aspettare e parlare in un momento in cui più persone lo cercano Mostra anche qualche ricerca correlata ma poco Generalmente invece per la ricerca correlata utilizza appunto Answer the Public Fantastico Inserito una keyword una massimo due parole Inserito ovviamente il comando importante Italia Per cercare appunto del territorio italiano E lui vi genera un sacco di grafici con tutte le parole chiave correlate a quella parola Quindi ad esempio vi mostro alcuni grafici che ho effettuato per il video sui motori di ricerca Ho detto ok voglio parlare di motori di ricerca ma cosa approfondisco sull'argomento? Sono andato a cercare la maggior parte delle ricerche Tutte sull'ambito motori di ricerca alternativi E quindi poi ho fatto proprio su quello il video migliori motori di ricerca Utilissimo per far su un idea di quello che il pubblico cerca su un determinato argomento Ma magari anche per trovare alcuni spunti approfondimenti di cui si potrebbe parlare nel video Che magari non ci sarebbe venuto in mente Bene quindi ora un'idea sicuramente più dettagliata più approfondita del video che vorrei andare a realizzare E quindi andiamo a capire cosa dire nel video Faccio questo non a computer pensi Su un normalissimo foglio di carta Vado a scrivere, vado a buttare giù tutto quello che mi viene in mente su quell'argomento Magari poi ne parlo, magari non ne parlo Ma non ci attorno, non è totalmente sparso, totalmente casuale Quello che mi viene in mente Appunto lo scrivo in questo foglio ma lo totalmente a caso Eccolo qui, questo è il foglio di borsa di questo video Come vedete un casino di cancellazioni, frecce, riquadri, annotazioni Sono partito come vedete dalla parte di analisi dei dati Poi l'idea viene spontanea, il database delle idee Di conseguenza il filtraggio, le stelle che do alle idee Insomma questo è tutto quello che c'è dietro Un video Ma anche il momento in cui vado a cercare magari alcuni dati sull'argomento Alcuni grafici Nel caso farei una top app, top bot, top program Vado anche a cercare appunto app bot programmi di cui parlare Eventualmente appunto anche alcuni approfondimenti E infine quindi quando mi trovo davanti a un foglio totalmente disordinato Appunto come questo, con le frecce e collegamenti Vado a fare la vera scaletta del mio video Quindi quella che adesso ho sotto occhio qui E vado a seguire mentre registro Questa cosa, dato che deve essere anche più rinata Nella faccia assolutamente a computer E utilizzo Notion Per farla ho provato veramente tantissimi siti, programmi, metodi Per farla però ultimamente sono ricaduto su Notion Per una serie di motivazioni che adesso vi spiegherò Principalmente in questa scaletta vado a approfondire Quindi vado a prendere quello che ho scritto sul foglio Tutti gli argomenti in ordine casuale Vado a dargli innanzitutto un ordine Quindi questo prima, questo dopo, questo collegato a questo E soprattutto vado anche ad approfondire Quindi scrivo qualcosina in più rispetto al foglio Eventualmente anche qui faccio delle ricerche Per andare ad approfondire un po' il tutto Non mi scrivo proprio l'intero discorso L'intera scaletta perché verrebbe un video troppo Preciso, troppo da cupione Troppo da quasi teleprompia Ma non mi scrivo neanche solo dei punti un po' così Casuali Faccio un po' un misto Quindi dei punti però un po' più approfonditi E così così vogliamo dirlo Non so neanche io come veramente spiegarvelo Però comunque ho trovato un mio metodo Con cui mi trovo bene sia a scriverlo Sia poi nel dirlo davanti alla videocamera Perché utilizzo Notion? Innanzitutto vi ho fatto un'idea di come scrivo le scalette Ma lo utilizzo perché posso andare a formattare il testo in molti modi Grassetto, corsivo Posso andare a evidenziare un testo E sono tutte cose utili per andare a focalizzare le varie cose durante la registrazione Dovevo vedere le cose velocemente a colpo d'occhio Utilizzo ad esempio la formattazione code Per inserire sia una parte vlog oppure statico Ma soprattutto lo utilizzo per una gerarchia di pagine Questa pagina qui dove c'è la scaletta di questo video È contenuta in questa pagina La pagina video Che cosa contiene? Contiene innanzitutto i video in scrittura o in registrazione Quindi questo e quello che uscirà giovedì E poi altri video che vedete hanno questo simbolo Il simbolo diciamo del divieto Perché? Perché sono video che ho scritto ma non mi convincono Sono video che solo ho iniziato a scrivere Sono video che però tengo lì Ma che non sono ancora stati fatti Sono stati fatti invece i video nella pagina fatti Quindi video, pagina fatti Nella pagina fatti sono tutte le altre pagine Con tutti gli altri Video, ottima questa cosa Utilissima per organizzarsi E tra l'altro una cosa che faccio io Che penso non faccia nessun altro Però ditemelo se c'è qualche creator Che la fa come me Che però a me aiuta molto È quella di provare a ripetere il video È quella di provare a fare il video Non davanti alla telecamera Sia mentre scrivo i punti così a caso sul foglio Sia poi mentre scrivo la scaletta Compiuta questo perché? Perché innanzitutto vado a capire Se quello che dico ha un minimo di senso Lo dico come se lo stessi dicendo davanti alla fotocamera Capisco se ha senso E soprattutto andando a parlare Molto molto spesso mi vengono in mente Argomenti da aggiungere Alcune cose in più da dire Che magari se no mi sarebbe venuto in mente Davanti alla videocamera E quindi non ho il tempo di dirgli Di approfondire fan fact Questa cosa è dirvi questo Ovvero che provo diciamo i video Mi è venuta in mente provavo questo video Quindi vedete che è utile Quindi infine mi rilego un po' di volte la scaletta Capisco se quello che ho scritto ha un senso Scritto in quel modo O è meglio cambiare ad esempio L'ordine di alcune cose Una piccola cosa che faccio È aggiungere dei tag Se così vogliamo chiamarli Ai vari paragrafi Tattico o vlog In questo video avete visto alcuni momenti In cui sono qui E altri invece dove sono qui Ecco mi vado a scrivere questi tag Per ricordarmi quali paragrafi Devo dire in questa inquadratura E quali nell'altra E niente alla fine Guardo davanti alla videocamera E come adesso Inizio a registrare il mio video Fino a finirlo di registrare Quindi io spero questo video Vi sia stato utile E soprattutto interessante Capire cosa c'è dietro Tutto il processo di ideazione di un video Lasciate un bel piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao